La geografia mescolata e ibrie tra interi due parti matrimoniali che sembrano installazioni e in mezzi stanzoni dove a decine, a centinaia e in tutte le taglie, in tutte le direzioni a cui in concio si rincorrono i tubi di ottone, chilometri, migliaia di chilometri di tubi con Armani che mi salva da Witton, che mi sospinge da Max Mara, allora io scappo scartando a destra ma dice Valentino, supportato da Dior, mentre Dolce e Gabbana se la vedono con Prada e Paco Rabanne se la vede con Cezanne, Narciso Rodriguez con Cervantes e Velasquez e allora scappa via tra le braccia di Versace, di Bulgari o di Coveri o forse di Fredy Mello